Chi è? Ah, sei tu. Ciao. Ho lasciato le chiavi all'accendino. Mamma è andata alla canasta. Ah. E non sai quando torna? No, ma è poco che è andata. Non ti fa fastidio? No. No. Su. Voi uomini siete tutti sporcaccioni. Posso darti una mano? No. Come sarebbe che noi uomini saremmo tutti sporcaccioni? Perché? Non è vero. Beh, non tutti. Dipende. Tutti, tutti. Dai, vieni qui. No. Ti dispiace passarmi le riviste? No. Ecco le. Sediti. No, devo finire. Riposati, poi riprendi. No. Beh, mi sono scocciata. La vuoi? No, vediamo insieme. Tengo io. Gira. Gira. che da? No. 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 Grazie a tutti.